Allora eccoci qui con un nuovo prodotto questo che io ho in mano è un prodotto che a me ha entusiasmato da subito, subito, subitissimo appena ho letto la comunicazione già stavo ordinando ed è il parente di Estasi di Neve Cosmetics il parente cioccolatoso quindi abbiamo un nuovo colore di Estasi che si chiama Estasi Ciocco e lo vado a sfumare subito altrimenti poi quello si fissa e ciaone guardate che effetto, io ho già iniziato a metterlo, ora ve lo faccio rivedere è bellissima la confezione io ce l'ho ovviamente già da un po' di tempo ma non ve lo potevo far vedere però vedete che insomma già lo sto utilizzando e ovviamente poi ha un packaging esterno che tanto vedrete in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago come diceva qualcuno perché sappiamo che poi inizieranno a spammarcelo ovunque ma io ve lo voglio far vedere all'opera perché è veramente troppo, 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 già guardate troppo bello perché ha questo effetto naturale allora se mi vede storta sono storta ma proprio per problemi miei diciamo comunque ha questo effetto così bellissimo naturale guardate leggermente meno pink, meno caldo rispetto al suo compagnuccio ma se volete posso fare anche metà viso e metà viso e lo andavo a mettere anche sulle labbra che risultano decisamente più cioccolato rispetto al solito se volete fatemi sapere perché vi farò metà viso con estasi normale e metà viso con estasi ciocco bellissimo, bellissimo, sono molto entusiasta